il ragazzo è quello qua c'è? quello che è il ragazzo, questo qua che è appiccio? senti un po' erano in grado della roba questo fa solo i ragazzi questo è rotto è rotto, hai ragione, è rotto qua che stai scendendo questo? e dove? tu hai appicciato? tu hai appicciato? ma no, devi buttare così, verso fuori oh, è acceso, è acceso, guarda ok 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.